Buongiorno a tutti, sono Isabella Moro e sono una docente del corso di laurea magistrale in Biologia Marina. Oggi sono qui per illustrarvi l'offerta formativa delle lauree in Biologia che vengono attivate presso l'Ateneo di Padova. Le lauree in Biologia afferiscono al Dipartimento di Biologia che le coordina e che fa capo alla Scuola di Scienze. Le lauree in Biologia comprendono una laurea triennale in Biologia e due lauree magistrali, una laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica e una laurea magistrale in Biologia Marina. Nel sito internet che vedete in questa slide potete trovare tutte le informazioni utili riferite a questi corsi di laurea, per esempio i programmi dei corsi, gli orari delle lezioni e i docenti di riferimento per i singoli insegnamenti. Il corso di laurea triennale in Biologia è a numero programmato. Per l'anno accademico 2016-2017 è previsto un numero di studenti pari a 145 più 5 posti aggiuntivi riservati a studenti non residenti, non comunitari. La laurea triennale in Biologia fornisce un percorso formativo che a partire dagli aspetti cellulari e molecolari dei sistemi biologici va ad approfondire, a concentrare l'attenzione sulla complessità delle forme e delle funzioni del mondo biologico e cioè sulla sua biodiversità. Verranno anche analizzate le problematiche, le dinamiche evolutive, le interazioni, organismi, ambiente con un taglio evoluzionistico ed ecologico. Il corso di studi si sviluppa in tre anni suddivisi in due semestri. L'impegno previsto è di 5 giorni alla settimana e con l'obbligo di frequenza di almeno il 75% delle lezioni. Inoltre c'è la possibilità per quanto riguarda gli studenti lavoratori di trovare modalità diverse per quanto riguarda la frequenza. Il corso di laurea triennale in Biologia è a numero programmato, quindi lo studente che intende iscriversi a questo corso di laurea dovrà sostenere un test di ingresso che è obbligatorio come tutti i corsi che afferiscono alla scuola di scienze. Il corso di laurea triennale in Biologia prevede al primo anno insegnamenti di base come per esempio la matematica, la fisica, la chimica, la biochimica, l'informatica e un primo corso di Biologia, fondamenti di Biologia che ha lo scopo di illustrare i processi e i meccanismi che operano negli organismi viventi, processi che verranno poi presi in considerazione più nel dettaglio approfonditi negli anni successivi. La maggior parte dei corsi, come potete osservare, è organizzata in lezioni frontali e in esercitazioni in laboratorio, quindi con un'attività pratica. Nel secondo anno verranno presi in considerazione gli organismi ai diversi livelli, a un livello molecolare, cellulare, per poi entrare proprio nel vivo degli organismi, sia animali che vegetali. Durante il terzo anno, invece, verranno affrontati argomenti che riguardano le origini della variabilità degli organismi, le funzioni degli organismi e le interazioni degli organismi. Sono previsti due insegnamenti in alternativa, un insegnamento in Biologia evoluzionistica e un insegnamento di Ecologia marina, che non sono altro che, diciamo, due corsi che gli studenti possono scegliere e che vengono presentati come offerta per indirizzare gli studenti verso una successiva laurea magisale. Nel secondo semestre del terzo anno è previsto anche un tirocinio, durante il quale lo studente ha la possibilità di affrontare degli argomenti, un argomento a sua scelta di cui è particolarmente interessato, che porterà poi alla stesura di una tesi e quindi ad una prova finale. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti riguardo alla didattica, Alma Laurea fornisce delle indicazioni molto utili e l'opinione che gli studenti hanno di questo corso di studi triennale è ampiamente positivo. Quindi una buona parte degli studenti si riscriverebbe a questo corso di laurea nel medesimo otteneo. La laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica prepara laureati esperti nell'ambito della biodiversità e capaci di applicare queste conoscenze in diversi aspetti biologici. La laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica è organizzata in due anni e prevede due corsi in inglese, un corso di etologia e un corso di conservazione ed evoluzione, che possono essere utili agli studenti per una formazione post laurea. Buona parte del secondo anno viene impegnata dagli studenti per un internato di laurea, per una durata di circa nove mesi. Questo internato di laurea prevede delle ricerche che possono essere svolte in laboratorio o direttamente sul campo. Questo tipo di internato può essere svolto o presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o presso laboratori di altri atenei italiani o stranieri. Anche per quanto riguarda la valutazione della didattica da parte degli studenti, Alma Laurea fornisce indicazioni tali da far considerare questa laurea molto gradita agli studenti, tanto che circa il 90% degli studenti si riscriverebbe allo stesso percorso di laurea. Alma Laurea, inoltre, un consorzio universitario che fa da ponte tra l'Università e il mondo del lavoro, fornisce indicazioni anche sull'occupazione dei laureati a un anno o a tre anni dopo la laurea. E quindi potete osservare che i laureati che si laureano presso la laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica di Padova trovano un impiego per una percentuale superiore al 50%. È da sottolineare inoltre che una parte di questi occupati trova impiego presso dottorati di ricerca e questo perché il nostro ateneo offre un dottorato di ricerca proprio in Biologia Evoluzionistica. L'altra laurea magistrale offerta dalla Scuola di Scienze e dal nostro Dipartimento di Biologia è la laurea magistrale in Biologia Marina. È una laurea che prepara laureati che possiedono strumenti sofisticati e moderni per lo studio, la conservazione e la gestione delle risorse marine. È una laurea che si svolge interamente presso la Chioggia per far sì che gli studenti abbiano modo di essere direttamente inseriti nel territorio, quindi in un ambito marino. Nell'ambito di questo corso magistrale sono previsti due diversi percorsi. Un percorso che prevede la gestione e la conservazione delle risorse marine e un percorso più concentrato sui temi dell'acquacoltura. Anche per quanto riguarda questo tipo di laurea magistrale sono previsti due corsi in inglese, elementi di demografia ed ecologia molecolare degli organismi marini e biodiversità e comportamento. Entrambi questi corsi possono essere utili agli studenti in un percorso post-laurea. E anche in questa laurea magistrale, così come nella laurea magistrale che abbiamo appena visto in Biologia Evoluzionistica, è previsto un internato di laurea. Un internato di laurea che viene svolto nell'ambito del secondo anno e anche in questo caso prevede ricerche in laboratorio o direttamente in campo e anche in questo caso questo tipo di attività può essere svolta sia presso i laboratori dell'Università di Padova, sia all'interno di altri laboratori di altre sedi italiane o straniere, anche usufruendo del progetto Erasmus. Inoltre alcuni studenti scelgono di fare la loro attività di ricerca anche in altre strutture esterne presenti nel territorio. Anche per quanto riguarda questa laurea magistrale, Alma Laurea fornisce la valutazione della didattica e l'opinione degli studenti è decisamente molto elevata, con una soddisfazione complessiva molto alta e anche in questo caso buona parte degli studenti si riscriverebbe al medesimo corso di laurea nel medesimo Ateneo. Per quanto riguarda l'occupazione, qui i risultati sono molto positivi. Infatti vedete che la laurea magistrale in Biologia Marina di Padova ha un'altissima percentuale di occupati sia un anno che dopo tre anni dalla laurea ed è quella che offre la maggior percentuale di impiego riferita ad altri corsi di laurea magistrale in Biologia Marina offerti da altri Atenei italiani. Grazie a tutti.